Eccoci qui, benvenuti in una nuova puntata della Divina Commedia. Stiamo leggendo praticamente tutti i canti dell'Inferno e siamo arrivati al canto undici. Abbiamo incontrato diavoli, peccatori, Dante è svenuto svariate volte, ma il viaggio di Dante e Virgilio continua. Scegliamo sempre più in basso, sempre più nelle profondità dell'Inferno e del peccato umano. In questo canto troviamo il primo Papa che Dante mette all'Inferno. Non sarà l'unico. Comincia qui una clamorosa denuncia della corruzione papale. Clamorosa se pensiamo ai tempi in cui Dante scrive. In più, in questo canto Dante ci parlerà della violenza. Ci spiegherà, cioè nel dettaglio, quanti tipi di violenza esistono. In quanti modi si può fare violenza sull'altro e su se stessi. Il tutto mentre si coprono il naso per la puzza incredibile che c'è in questo cerchio. Cominciamo la lettura del canto undici. Vi dicevo che questo canto si apre con delle sensazioni olfattive particolarmente sgradevoli. Quivi per l'orribile superchio del puzzo che il profondo abisso gitta ci raccostammo indietro ad un coperchio, ad un grande avello. Ecco, che cosa sta succedendo? Dante e Virgilio, già dal canto precedente, stavano passeggiando amabilmente tra questi sepolcri, tra queste tombe aperte, scoperchiate. Avevamo visto che qualcuno, per esempio Farinata degli Uberti, si era tirato su da una delle tombe per parlare con loro. Adesso queste tombe sono causa addirittura di un orribile eccesso di fetore, che viene mandato direttamente dal profondo abisso. E quindi Dante e Virgilio sono costretti a raccostarsi, dice, cioè a nascondersi, a ripararsi dal coperchio di una grande tomba. Il punto è che su questa tomba io vi di una scritta che dicea Anastasio Papa guardo lo qual trasse Fotin della via dritta. Ecco qui che incontriamo una tomba di un Papa. Questa tomba custodisce infatti il Papa Anastasio che Fotino distolse dall'ortodossia. Allora, chi è questo Anastasio? Stiamo parlando di Anastasio II, un Papa in realtà molto antico. Morì, pensate, nel 498, quindi è lontanissimo nel tempo anche per Dante. Dante però qui riprende una polemica abbastanza fortunata nel Medioevo riguardo a questo Papa, che aveva, a quanto pare, appoggiato l'eresia monofisita. I monofisiti, ve la faccio brevissima, molto semplice per non tediarvi, erano coloro che sostenevano che in Cristo non vi fossero due nature, cioè quella divina, in quanto figlio di Dio, ma anche quella umana. Sostenevano invece che ci fosse solo quella divina. Il problema è che la dottrina ufficiale della Chiesa sosteneva il contrario. Lo so che a noi sembrano questioni assurde, ogni volta che le spiego in classe i ragazzi mi guardano stralunati. Sono cose che non capiamo più. Fanno parte di un passato molto lontano, quegli argomenti teologici che oggi noi non sfioriamo nemmeno per sbaglio. Certo è che però quella dei monofisiti fu considerata un'eresia molto molto grave. Eresia, vi ricordo, è tutto ciò che va al di là di ciò che ufficialmente sostiene la Chiesa. A quanto pare questo Papa Anastasio II aveva cercato di essere dialogante con questi eretici. Aveva addirittura mandato una delegazione a Costantinopoli da Acacio, l'iniziatore di questa eresia monofisita, nonché patriarca di Costantinopoli. E c'era stato un tentativo di riconciliazione, che venne però poi interpretato come un atteggiamento decisamente troppo aperto nei confronti dell'eresia. Dante riprende questa interpretazione dell'operato di Anastasio II e quindi lo mette proprio qui, tra gli eretici, perché siamo ancora nel sesto cerchio, quello degli eretici, e in particolar modo tra i peccatori monofisiti. Ma andiamo avanti. Virgilio è costretto a chiedere a Dante di rallentare il passo, così che il loro fiato si abitui a questa orribile puzza che questo cerchio e le profondità dell'inferno in generale emettono. A questo punto, quindi, nel rallentare il passo, hanno il tempo per dialogare tra loro di alcune questioni molto interessanti. Virgilio si mette, cioè, a spiegare a Dante come è strutturata l'ultima parte dell'inferno, quella che stanno per visitare. Stanno, infatti, per uscire dal sesto cerchio, vi ricordo che i cerchi sono nove, e gli ultimi tre sono, potrete immaginare, i peggiori. Il settimo cerchio è quello dei violenti. L'ottavo e il nono cerchio sono, invece, dedicati ai traditori. Virgilio, quindi, dice che ci sono questi tre cerchi che sono pieni di spiriti maledetti. E il primo di questi, di violenti, il primo cerchio, è tutto. Ma perché si fa forza a tre persone, in tre gironi è distinto e costrutto. Virgilio ci spiega, cioè, che il settimo cerchio, quello dedicato ai violenti, è diviso in tre gironi. Usa proprio questa parola. Perché si può fare violenza in tre modi diversi. Si può fare violenza a Dio, a sé, al prossimo. Si può ne far forza. Dico in loro e in loro cose, come udirai con aperta ragione. Cioè, si può fare violenza contro Dio, contro se stessi e contro il prossimo. Sia a danno delle loro persone, che delle loro cose. Come sentirai, grazie alla spiegazione chiara. Vediamo verso il prossimo che tipi di violenze si possono commettere. Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno, e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose. Onde omicida e ciascun che è malfiere, guastatori e predon, tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. Contro la persona del prossimo si può fare violenza causandogli morte violenta, morte per forza, o ferite gravi contro le sue sostanze, i suoi beni, tramite rovine, tramite incendi o tramite dannose estorsioni. Per cui il primo girone punisce, in diversi gruppi, tutti gli omicidi. Quelli che feriscono ingiustamente e coloro che danneggiano e depredano. Vediamo poi invece nel secondo girone. Può te homo avere in sé man violente nei suoi beni. Cioè la violenza può essere rivolta non solo verso gli altri, in tutti i modi che ci ha appena raccontato, ma anche verso se stessi. Si può avere la mano violenta verso di sé e verso i propri beni, le proprie sostanze. Cioè per questo è necessario che si penta, ma senza alcuna utilità, perché tanto ormai è dannato in eterno, nel secondo girone chiunque si priva della vita sulla vostra terra, chi se la toglie, chi ricorre al suicidio, e chiunque con il gioco disperde le proprie ricchezze e piange là, nella vita terrena, dove invece dovrebbe essere giocondo, felice. Mi sembra molto interessante che Dante ci stia ricordando che la violenza non ha a che fare soltanto con l'aspetto più puramente fisico, l'omicidio, il suicidio. Ha a che fare anche con l'incapacità di prendersi cura dei propri beni. Qui Dante ci sta parlando dell'orrore, del gioco d'azzardo, del modo in cui gli uomini disperdono le proprie ricchezze e si rovinano la vita a causa di questo. E in più ci stava dicendo anche che possiamo fare del male agli altri anche danneggiando i loro beni, le loro proprietà. Insomma, ciò che possediamo va trattato con cura, ha a che fare con il modo in cui noi ci prendiamo cura di noi stessi. E questa io credo che sia una riflessione molto interessante soprattutto nel mondo di oggi. Un mondo incredibilmente, irrimediabilmente materiale, ma allo stesso tempo un mondo che questi beni li consuma senza freno, non dando il giusto peso a ciò che si possiede. Questo è farci del male. Nello minor giron invece, nell'ultimo dei gironi del settimo cerchio, può si far forza nella Deitate, col cor negando e bestemmiando quella e spregiando natura e sua bontade. Cioè si può commettere violenza contro la divinità, anche contro di lei, negandola nel proprio cuore, nel proprio intimo, bestemmiandola addirittura, e disprezzando la natura e la sua bontà. Per questo, lo minor giron suggella del segno suo e Sodoma e Caorza e chi? Spregiando Dio col cor favella. Per questo, l'ultimo girone imprime il suo marchio sia sui Sodomiti, qui vediamo proprio un accenno alla città di Sodoma, no? Un mito biblico legato alla condanna dell'omosessualità, e Caorza, che è simbolo degli usurai, ma anche su quelli che bestemmiano disprezzando Dio col cuore. Vedremo effettivamente nei prossimi canti che Dante scenderà in questi gironi e incontrerà diversi violenti, violenti contro la natura, violenti contro il lavoro, violenti contro Dio, ma anche contro gli altri, contro se stessi, eccetera, eccetera. Passiamo ora alla descrizione invece dell'ottavo cerchio. L'ottavo cerchio è dedicato alla frode. La frode, ogni ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida e in quel che fidanzano in borsa. Cioè Dante ci sta dicendo in generale che la frode, per cui ogni coscienza prova rimorso, l'uomo può usarla contro colui che si fida e contro chi invece non possiede fiducia. Sono due modi di tradire completamente diversi. Infatti ci sono due cerchi diversi, l'ottavo e il nono. Cioè un cerchio dedicato a coloro che hanno frodato chi non si fidava, cioè chi non aveva anche un legame, un rapporto con il truffatore, con il frodatore, e poi un cerchio dedicato invece a coloro che hanno tradito la fiducia. È la cosa più grave in assoluto, cioè coloro che hanno commesso frode, che hanno commesso tradimento contro coloro con i quali avevano dei rapporti, dei rapporti familiari, dei rapporti importanti, insomma, che vengono violati in questo modo. Vi ricordo che il tradimento nel mondo cristiano è una delle cose peggiori che possano esistere. Dopotutto Giuda ha portato all'arresto e alla morte di Gesù. Ecco, per quanto riguarda la frode verso coloro che non possedono fiducia, può essere di vari tipi. Può essere ipocrisia, lusinga, ricorrere ad affattura, ad arti magiche, ma anche i falsari, i ladri, i simoniaci, i ruffiani, i barattieri e simili peccati. Quell'altro tipo di tradimento, quello più grave invece, l'altro modo quella morsoblia che fa natura, cioè con l'altro modo si dimentica il vincolo d'amore naturale, è la frode contro chi si fida. Ecco, nei confronti di coloro che commettono questo, c'è la punizione peggiore, cioè questi peccatori vengono mandati nel cerchio più piccolo, quello più basso, quello che si trova in fondo, a quest'imbuto infernale che via via si restringe, dove c'è il centro dell'universo in cui assiede Lucifero, in su che dite siede. Ecco, questa spiegazione era necessaria, perché Dante adesso sta per farci entrare nella parte peggiore dell'inferno, e quindi serviva prepararci, perché non vedremo più dei golosi, dei lussuriosi, quelli che più in generale Dante più avanti chiamerà gli incontinenti, cioè coloro che non sono riusciti a frenare un vizio e l'hanno reso centrale nella loro vita. Qui stiamo parlando invece di vere e proprie forme di violenza, di tradimento, di frode. Insomma, la bestialità umana è tutta raccolta in questi ultimi cerchi. E infatti l'inferno è proprio fatto così. Si parte dai cerchi più alti, e si arriva al nono, che è il peggiore, e che è quello in cui si trova Lucifero, ma è anche quello più lontano in assoluto da Dio, perché si trova esattamente al centro della Terra. Ma dopo tutte queste chiacchiere, dopo un approfondimento sull'usura, Dante e Virgilio riprendono il loro cammino. È arrivato il momento, cioè, di procedere, nonostante la puzza, e di arrivare finalmente in questo settimo cerchio, dove troveremo un sacco di personaggi famosissimi, e come al solito, tanti mostri mitologici. Intanto ci fermiamo qui, vi ringrazio per aver seguito anche questa lettura della Divina Commedia, e come al solito l'appuntamento è a venerdì prossimo. Ciao a tutti e a presto!